Il posto è un posto fantastico, abbiamo tutto per fare il nostro lavoro e per le prossime settimane mi aspetto a lavorare insieme, conoscersi e prepararsi per la stagione. Credo che la base è conoscersi al 100% e quando finiamo il ritiro di avere tutti la stessa idea, credo che sia la base. Adesso noi abbiamo una idea di come dobbiamo giocare e la cosa migliore è che quando finiamo questi stage siamo tutti nella stessa direzione, tutti con la stessa idea e quello che vogliamo mettere in campo. Grazie.